Se l'obiettivo era quello di mantenere alta la guardia su un'emergenza a cui non si riesce a porre rimedio, possiamo dire che sia stato decisamente centrato. A Ceccano, un fiume di gente, una marea umana, ha partecipato alla manifestazione organizzata dagli stessi cittadini per dire ancora una volta basta agli odori neosabondi che rendono l'aria irrespirabile ormai da settimane. Quella pena trascorsa a Ceccano è stata la lunga notte della mobilitazione. I cittadini si sono dati appuntamento giovedì sera alle 22 a ridosso del depuratore Asi di Colle San Paolo, lo stesso finito nel mirino della DDA di Roma che ipotizza lo smaltimento come non pericolosi di rifiuti su cui però non erano stati fatti gli accertamenti dovuti per escluderne la stessa pericolosità. Sono 12, lo ricordiamo in questa inchiesta, le persone indagate. Ed allora giovedì sera oltre mille cittadini si sono radunati davanti quel depuratore, hanno manifestato la loro rabbia, la loro paura per ciò che c'è nell'aria. Anche perché non si sa che cosa si stia respirando, si sa solo che l'aria puzza e tanto così come puzzava giovedì sera a livelli impressionanti. C'erano famiglie intere, tutti a scandire una parola, basta. La gente di Ceccano e non solo è stufa di una situazione che sembra non avere fine, tutti vogliono risposte e certezze. Con il passare dei minuti è salita anche la tensione, alcuni manifestanti poi intorno alla mezzanotte si sono indirizzati lungo lo stradone dell'Asi per dirigersi a ridosso della Montilepini ed hanno bloccato un tratto dell'arteria all'altezza dell'ex birificio. Non sono mancati disagi alla circolazione all'altezza dello svincolo di Ceccano sia verso Latina sia verso Frosinone. Ne è nata una lunga mediazione con le forze dell'ordine ed in particolare con il capo delle volanti della questura di Frosinone, il dottor Flavio Genovesi. In contatto telefonico anche il questore di Frosinone, Rosario Amato, per convincere i manifestanti a sgomberare quel tratto di strada. Alla fine, attorno alle due della notte, la situazione è tornata alla normalità e dal punto di vista dell'ordine pubblico non si sono registrati problemi di sorta. Resta dunque una notte di mobilitazione imponente da parte di gente esasperata che ha paura per la propria salute e per quella dei figli, perché i manifestanti hanno voluto ribadire un concetto. A Ceccano si vive un'emergenza ambientale drammatica e non ci si può di certo girare dall'altra parte facendo finta di nulla.